Rivolgo un cordiale benvenuto ai pellegrini di lingua italiana. In particolare saluto voi, partecipanti all'incontro internazionale dell'Unif, promessa della Prelatura dell'Opus Dei. Grazie a tutti. Così attraverso la vostra vita si realizzerà, quanto auspicava San Josemaria e scriva, il tuo contegno. Ha scritto nel cammino, il tuo contegno e la tua conversazione siano tali, che tutti nel vederti o nel sentirti parlare possano dire, ecco uno che legge la vita di Gesù Cristo. Gesù Cristo 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 Grazie a tutti.